Torna alla vittoria l'Angelana, così come alla vigilia aveva fortemente chiesto ai suoi il mister Stefano Cardinali. Belli o non belli, stavolta dovremo vincere, aveva detto, e così è stato. Una vittoria arrivata in rimonta, contro un'Orvietana inizialmente in vantaggio, ma Idoma è sempre concretamente in partita. Un'Angelana senza Silveri, infortunato. C'è Barbini, già rientrato in squadra dopo l'infortunio alla spalla dalla gara di domenica scorsa a Bastia. Orvietana con tre assenze pesanti, abbastanza rimaneggiata. Bel sole al Micaghelli, buon pubblico e terreno in ottime condizioni. Andiamo alla cronaca. Pronti via e al quinto l'Orvietana va in vantaggio. Frellicca serve un grande assist a Moneti, che non ci pensa due volte e colpisce al volo il pallone realizzando un euro-goal di rara bellezza. 0-1 e Orvietana avanti. Al dodicesimo prima occasione per i padroni di casa. Calcio di punizione da ottima posizione, calcio a bernicchia e sfiori il gol al lato. Al tredicesimo grandissime azioni dell'Angelana. Combinazione bernicchi, vent'anni, Biscaro-Parrini. Palla che torna su vent'anni che conclude e sganappa compie un intervento sublime. Altra meravigliosa azione e bel calcio. Al ventitreesimo il pari, meritato dei giallorossi. Dopo un gran pressing in avanti, vent'anni calcio a una bella punizione. Lo spiovente imbecca preciso Taccucci al posto giusto al momento giusto, che deve solo appoggiare in rete dalla destra. Solo in area piccola, 1-1. Partita che non conosce soste. Pochi minuti dopo, subito reazione Orvietana. Gianluca Polidori riceve dalle retrovie e spara in porta andando in gol, ma la bandierina dell'assistente è alzata e la rete non valida. Proteste. Al trentaquattresimo è carissimi a ricevere un gran pallone dallo stesso Polidori e supera Tann in uscita. Taccucci salva sulla linea. Al quarantaseiesimo, grande occasione dell'Angelana. Enrico Polidori spara su sganappa, intervento super del numero uno ospite. È il preludio al gol, perché trenta secondi dopo vent'anni cade in aria, in mischia, e per l'arbitro è rigore. Ancora fra le numerose proteste bianco-rosse. Sul pallone va Enrico Polidori che realizza il 2-1 sul quale si va a riposo. È ripreso a che parte subito forte. Al settimo Enrico Polidori cade in aria strattonato. I giallorossi chiedono il calcio di rigore, l'arbitro lascia correre. Al quindicesimo risposta ospite. Carissimi di testa, Tanno si supera. Al venticinquesimo ancora proteste dell'Orvietana. Stavolta è Gianluca Polidori che viene atterrato in corsa in aria. Dini di Città di Castello indica a chiari gesti il pallone e lascia correre. Al ventinovesimo biancorossi ancora avanti con Moneti che spizza di testa fuori. L'Orvietana ci prova alla ricerca del pari che non arriva. L'ultima occasione è giallorossa con Bernicchi da calcio piazzato Sganappa De Via. Finisce 2-1 al Micaghelli. Io vorrei partire da quello che hai detto tu. Due squadre che hanno giocato una partita a viso aperto. Sicuramente noi venivamo in questo campo sapendo del valore dell'Angelana e di tutti i suoi effettivi. Noi purtroppo eravamo arrivati abbastanza contati ma questo non voglio piangere assolutamente perché i sostituti sono stati bravissimi nell'interpretare la partita. Quindi bene però giocatori come Mua, Saleppico e Bernardini non si regalano a un'Angelana così insomma. Dopodiché io dico sempre che mi piace perdere o meglio non mi piace perdere. Accetto la sconfitta nel momento in cui è pulita. Questa non mi è piaciuta perché secondo me, non secondo me, detta di tutti. Per fortuna in questo momento ci sono le immagini anche in eccellenza, una cosa fantastica. Il nostro gol del 2-1 era regolarissimo e sul rigore dell'Angelana c'era più di un dubbio. Non voglio stare a parlare dell'arbitro però capite da soli che andare 2-1 per loro e 2-1 per noi cambiava un po' la partita. Poi questo non voglio togliere nulla all'Angelana che ha fatto la sua buonissima partita. Ripeto, sono molto contento dei miei ragazzi perché in una situazione diversa ho dovuto cambiare modulo, atteggiamento, l'hanno interpretato benissimo. Fino alla fine abbiamo avuto situazioni per poter pareggiare anche se non in maniera proprio limpida, pulita. Però dai, sono soddisfatto, sono soddisfatto. Dopo due sconfitte si percepiva in settimana uno spirito, una voglia di rivalsa clamorosa che ci potesse portare al risultato pieno oggi. Questo per certi versi un pochino forse ci ha anche penalizzato nello sviluppo della manovra. Però credo che c'è stata un'ottima reazione dopo il gol preso a freddo e credo che alla fine abbiamo vinto anche meritatamente. Per quello siamo riusciti a entrare in area, credo, più volte di loro e quindi abbiamo capitalizzato. Poi alla fine abbiamo rischiato, deciso di cercare di rischiare poco, che poi quando fai questi discorsi non sai mai quanto ti tornano. Quindi però oggi era troppo importante riuscire a tornare a prendere tre punti. Bello o brutto, Angelana? Diciamo che altre volte è stata molto meglio. Però ribadesco, veniamo da una settimana dove abbiamo ricevuto tanti complimenti, tanta percezione di come terminevamo il campo, dello sviluppo del gioco. Poi si sa che questo è un gioco che sull'umore incide molto, insomma, quindi l'imperativo oggi era veramente riuscire a ritrovare i tre punti. Ora sulle altre cose ci dovremo lavorare perché in cantiere le abbiamo, in canna le abbiamo e quindi dobbiamo sicuramente tirarle fuori.